Allora, ripartiamo Alleluia, 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 alleluia Ok, quello che avete visto adesso è come abbiamo finito Praticamente siamo arrivati a fare gli animatori per tutta quella che è stata la processione finale Ma come ci siamo arrivati fino a quel punto? Magari non ve ne frega niente, ma vi consiglio di dare un'occhiata perché era partito come un vlog in cui volevo conoscere i desideri delle persone Alla fine abbiamo conosciuto una marea di persone, quello sicuramente, anche se con risvolti decisamente inaspettati Quindi mi raccomando, proseguite Siamo in partenza, a Osto Grissan, tanta qualità E niente, sarà un vlog diverso dal solito, particolare Iniziamo tra l'altro registrando il supermercato, quindi diverso sicuramente Scelte fondamentali Qua siamo in crisi Cosa prendiamo? Il frigo Stiamo valutando se portarci via anche qualche reperto storico Direi che stiamo andando molto bene Organizzazione massimi livelli Si pronuncia un viaggio interessante Allora, sono pronti? Prontissimi Che bello, mamma mia Le trovie, siamo pronti? Siamo carichissimi Ragazzi, se non torniamo è stato bello Ma se metterete questo video è perché siamo tornati Non è che tolgo? Togli l'anima, cin Il vlog più bippato del mondo sarà, lo sappiamo già Sarà molto interessante Allora, zionellini, siamo arrivati Finalmente, eccoci qua, spero di riprenderci Perché siamo un po' alti ma dovremmo farcela Questo è altro teala pesca Sì, bravo Teala pesca E questo è teala pesca seccato Sarà, come dicevo, il vlog più bello di sempre Quindi vi raccomando A dopo State connessi State connessi poi per noi Allora, questo è il posto in cui verrò a vivere Se il canale non andrà bene Quindi, colpa vostra, alla fine Guarda qua Sotto un bel ponticciolo C'è anche l'acqua, quindi non rimango neanche assetato Guarda, ho già trovato il posto dove vivere Quindi, mi raccomando, dovete far andare bene il canale Colpa vostra, se no, non lo dico Ciak, via Ciak 2, perché il primo sono stato una cattiva persona Perché si chiede prima alle signore, ovviamente Non l'età, non chiedetela mai se lo vi picchiano Allora, come dicevo Alla Giova Beach Party Ci sarà questo vlog particolare Dove, grazie al cameraman Parleremo di Quali sono i desideri delle persone Al giorno Quindi, abbiamo i nostri prima intervistati Quali sono i vostri desideri della vita? Allora, in questo momento Io desiderio è riuscire a fare la via degli dei E quello che mi sono prefissi a queste stavole Che miseria Cosa, tutto sul nostro blog Abbiamo altre fan dietro Adesso intervistiamo anche le altre fan Prego, prego Il desiderio della sua vita, eh? Stare bene Stare bene Che come dicevamo prima Che purtroppo abbiamo dovuto tagliare il ciak Se no mi picchiavano Non è assolutamente scontato Quindi mi raccomando Restate connessi Dacci un'opinione su questo tronchi Facciamo uscire Allora, io direi che Il packaging È strutturato molto bene Bene Il desiderio ha fatto un'ottima campagna di market Assaggiamo il tronchi Allora Facciamo il tronchi Allora Al gusto Manca un po' di salidità Manca un po' di sale Manca la parte croccante Perché è sciolto Non è per il caldo La mia votazione finale È una votazione di 8 su 10 Location? La parte croccante Location 9 No 8 e mezzo Perché qua c'è la fabbrica abbandonata Ok, ci siamo Eccoci qua Questo è Joe Beach Party Quindi mi raccomando ragazzi Sarà un'esperienza interessante Interessante Speriamo si senta qualcosa Però il problema Speriamo Noi stiamo chiedendo Qual è il vostro sogno? Cosa vorreste fare nella vita? Comincia prima tu No, no, va bene Comincia prima tu Comincia prima tu Dai No, 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 adesso dobbiamo farlo Mi ha lasciato un'esperienza È un casino Uno dice Cosa vuoi fare nella vita? Astronauta No, vabbè Allora Come lavoro È un bravo Che voglio realizzare Lavorare nel mondo Della pasticceria Aprire una catena mia Bravissima Io sarei un cliente Ce l'ho a fame Abbassi la musica Scusa che ti ha parlato Noi stiamo lavorando Comunque Tocca a te Mi chissare un pochino Egli Urca 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 Non male Unico per il momento Unico sogno Ok, ma adesso Cos'è che hai già visitato? Giusto per Hai già girato Spagna Pugnita cieca Terra Pugnale Vabbè Diciamo che in Europa Sei già messa bene I nostri sogni I nostri sogni Il cassetto Teo Il tuo sogno è il cassetto Non te l'ho chiesto Sei già enorme Quindi non vale Il cassetto è Il cassetto è Il cambio è generale E' generale Oh, lei ti accompagna Secondo me Grazie Vi ho trovato Al prossimo matrimonio Da Jobbitch Party Io ve lo dico Facile Easy Voglio i diritti Assolutamente Ci siamo Non siamo allocati Mi amico E' uno di tutti Stiamo facendo un vlog Stiamo chiedendo a tutti Quali sarebbe il vostro sogno Nella vita Dove essere annunciato Domanda Sì E' una delle domande Più difficili Della vostra vita La burla Il simpatismo La risacca Il meme Io veramente Avere una casa Una cittura Maltitana Fraiano Si sta Si sta Gran sogno Una casa Una costina amalfitana Tanta roba Allora ragazzi Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Allora Dottore Qua è un vlog Per un piano youtube Certo Quindi Ma quante birra sei? Solo alla sesta Solo alla sesta Detto con Non c'è la sesta Eccezionale Ragazzi Allora Lui è enorme Ma te Hai un bagaglio Culturale gigantico Che cervello Che con Dottore Qual è La domanda Più importante Qual è il tuo sogno Nella vita? La f***a No Quella è il sogno Ma quella va bene Ma è giusto Ma qual è Il sogno Oltre quello Nella vita? Allora Ci sono spariati Comunque Il sesto Dà lo potere Dà la fila a testa C'è il sesto Ci sta No Bene Laureato in Senta Grazie Puttana grandissima Confidiamoci il tempo Per le prossime Continuazioni di Cose importanti Sempre Gesuca Lui è Laurato della figa Guarda Università della strada Bravo Svega Bravo E poi Vi ha le balle Anche a voi Questo evento No Sì sì Ma siamo i testimonio Va bene È un vlog Stiamo facendo su Qual è il desiderio Il più grande desiderio Che avete nella vostra vita Il matrimonio Con lei Purca Ragazzi Adesso è il tuo volevo No perché laureato Sono laureato La loro c'è no Aia 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 Voglio insegnamenti Ma aspetta Adesso cambiamo Insegnarli a fare una valeria Oh bravo Perché è un impegno È un impegno Un impegno Un impegno Un impegno Allora qua ragazzi Abbiamo il secondo matrimonio Già prenotato Per il job Quindi sono a qualità Qui Tra la nostra 5 anni Sarà qui Perfetto Adesso Stiamo contento Come diciamo Sì Stiamo contento Siamo potenti Grazie ragazzi Grazie Ciao 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 Ragazzi Vi lascio soli Lasciamoli soli Facciamo finta di nero Allora In pratica Questa è una richiesta Ragazzi Ho i brividi per loro Dopo I brividi per loro Con due figli Vettorio Allora Dopo 19 anni Non vediamo tutto Non è una cosa È diverso Conello Oh 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 Vamos Alla Playa Oh 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 Vamos Alla Playa Oh 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 Le fiamme addosso, bellissime e crudene Le stesse sui riguardi, non vogliono uno cadere L'anello su la spiazza Le stesse sui riguardi, non vogliono uno cadere Le stesse sui riguardi, non vogliono uno cadere Le stesse sui riguardi, non vogliono uno cadere Tremoto e un casco, un digaro, mamma, mamma, mamma O se ti tocchi, ti stavi preoccupando Tranquilla mamma, son con lei che sto shakerando Shakerando, oh shakerando Vai Gianni! Gianni! Di cantare dalla mamma, a prendere l'arte Reconcervi, scendi amore, ho bisogno di te Perché stai, essenzialmente stai Sono stato salesso di me, sono stato salesso di me A te che non ti piace mai, queste è la meraviglia Le forze che la natura si concentra di me Mi hanno regalato un suono, sono fortunato Perché non c'è niente che ho bisogno Quando viene sera e il corpo è la tale Alleluia, 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 alleluia Sì ma siamo morti ragazzi Ma cosa facciamo? Ci facciamo ridere dietro, ma dai E ve lo dico, torniamo in oratorio, non fate merenda Ma siamo schemi Azzurro è lungo per me Ho godi non avere più risorse senza ariche E allora io quasi quasi prendo il treno Avevo una mucca da latte Avevo una mucca da latte Aveva due corna perfette Aveva due corna perfette La vedessi come bella La vedessi come bella Si gira Con la sua campanella Con la sua campanella Non si vede ma siamo in processione Con borrighi e anima tutta la serata Sarà una lunga camminata Allora il vlog ha preso una piega strana Sì A un certo punto E quindi niente Siete arrivati fino a questo punto Bravi Anche se i desideri delle persone Li abbiamo conosciuti Ma in maniere differenti Ciao